Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove scarpa Zodiac La versione bassa della famiglia Zodiac, pensata per trekking veramente impegnativi e anche vie ferrate Di cui adesso vediamo pregi di fette all'interno dell'ercensione completa Iniziamo come al solito dalla suola di queste Zodiac Perché qui troviamo una classica Vibramont Una suola veramente prestazionale, su roccia tiene veramente molto molto bene Sia che sia asciutta, sia che sia bagnata Pensate che oggi ho fatto una ferrata su roccia bagnata ed è andata veramente bene Questo grazie anche a tutta la climbing zone presente sulla parte anteriore E in più questa Vibramont ha anche il brevetto scarpa ABS Che praticamente non fa altro che avere dei tasselli che vanno a modularsi in base al tipo di terreno su cui stiamo camminando Se dobbiamo andare a camminare su del terreno particolarmente roccioso, dissestato Questi tasselli della suola vanno un po' a deformarsi per garantire il maggior grip possibile Devo dire che come scarpa praticamente sulla roccia è dove dà il meglio di sé Dove magari stenta un pochino è sul fango che lì bisogna fare un pochino attenzione Tende un pochino a scivolare Ma dal punto di vista di roccia, camminabilità eccetera veramente un'ottima suola Passando invece all'intersuola qui troviamo un classico intersuola in PU a doppia densità Con un inserto più ammortizzante nel tallone Un'intersuola la cui principale caratteristica è sicuramente la sua semirrigidità È un'intersuola semirigido che ci darà sicuramente un ottimo feedback nel momento in cui andiamo su terreno tecnico Nel momento in cui dovremo anche lavorare molto di punta È un'intersuola che però ci garantisce anche un'ottima camminabilità Nel momento in cui magari dobbiamo fare delle escursioni un pochino più semplici Tendenzialmente non andrei però a fare delle escursioni troppo troppo semplici Perché lì il piede tenderebbe un po' troppo a stancarsi Diciamo quelle escursioni magari da media a alta montagna Dove abbiamo comunque bisogno di un certo supporto Arrivando invece alla parte superiore della Tomaya iniziamo dal puntale Perché qui troviamo un puntale veramente molto rigido C'è un puntale di quelli che potete prendere a calci le rocce Non sentirete nessun male Tutta la parte di Tomaya in sé invece è in pelle Una pelle che naturalmente tende ad essere abbastanza calda Con anche la tecnologia 37.5 di scarpa Che fa sì che ci sia un'ottima termoregolazione Però non è sicuramente una scarpa a utilizzare nelle giornate più calde e estive a bassa quota È una scarpa più magari d'alta quota dove tende a fare magari un pochino più fresco Dal punto di vista della pelle in sé è fatta molto bene Utilizzata su diverse escursioni e ancora completamente integra Quindi da questo punto di vista sicuramente la solita classica perfetta pelle utilizzata da scarpa Infine la Tomaya, la classica fodera in Gore-Tex Che ci permette poterla utilizzare anche per passare dei ruscelli, dei guadi Senza bagnarci il piede Arrivando invece al tallone qui troviamo un tallone innanzitutto come dicevo basso Perché questa è la versione bassa della linea Zodiac Un tallone veramente molto strutturato Che ci garantirà di avere un'ottima stabilità anche sui terreni più tecnici Un tallone che complice anche la parte inferiore E un pochino più morbida per darci un po' di ammortizzazione Comunque non darà problemi dal punto di vista della stabilità anche sulle discese più accidentate Davvero un tallone fatto bene, molto molto stabile E per quanto riguarda l'imbottitura, un'imbottitura classica Abbastanza completa dal punto di vista proprio in sé della morbidezza Qui devo dire l'imbottitura proprio classica Quello che mi è piaciuto tantissimo di questa scarpa è la sua allacciatura Perché nonostante si è pensato in una scarpa da trekking Ha un'allacciatura che è praticamente uguale a una scarpa da avvicinamento Quindi abbiamo la chiusura che va direttamente in punta allo scarpone Questo ci permette di poter avere una calzata veramente perfetta, ottima E che possiamo stringere veramente bene la scarpa attorno al nostro piede Questo veramente molto molto bene Soprattutto quando andiamo a fare delle vie ferrate o comunque dei sentieri molto molto tecnici Per quanto riguarda invece la linguetta Lei molto classica, imbottita, svolge un ottimo lavoro Devo dire, veramente molto molto classica A livello di grandezza dell'avampiede Devo dire che è una scarpa abbastanza normale Non è né larga né stretta È proprio una grandezza media Di cui io personalmente ho preso il solito numero che prendo di scarpa Senza dover andare a prendere mezza taglia in più o mezza taglia in meno Arriviamo dunque a capire a chi consiglia e dove vi consigli utilizzare queste Zodiac È sicuramente una scarpa da terreno tecnico Quindi una scarpa dove andare sicuramente su terreni rocciosi Vie ferrate, terreni medio difficili Ve la sconsiglio per tutto quello che è veramente il camminabile Sentieri molto molto semplici Perché lì tendenzialmente gli andresso un altro tipo di calzatura anche sempre di scarpa È una scarpa che secondo me va bene un po' per tutti Dall'escursionista principiante che vuole iniziare a fare qualche sentiero più tecnico All'escursionista invece con tanta esperienza Che vuole andare a fare i sentieri più difficili che ci sono sulle nostre montagne Quindi da questo punto di vista possiamo dire che può andare bene un po' per chiunque A livello di invece durata sicuramente potete utilizzarla anche per dei trekking Anche di più giorni, dei trekking in giornata Anche tante tante ore senza nessun problema Arrivando dunque alle conclusioni per queste scarpa Zodiac Iniziamo dal prezzo perché vengono vendute da scarpa a 230 euro Online si trova già anche a un prezzo inferiore Ve le consiglio, sì, perché è una scarpa fatta molto bene Che durerà nel tempo Una scarpa che ci permette di poter fare un po' di tutto Come vi dicevo, sui sentieri di media alta montagna Una scarpa dagli ottimi materiali Quello sicuramente che naturalmente poi anche alla lunga non avrà nessun problema E detto ciò ragazzi Una speranza sia stata esauramente esaustiva anche per questa recensione Vi ringrazio che la guardate E noi ci vediamo alla prossima Ciao